I depinti sono stati segnalati a me dai ragazzi miei, i miei figli, da Zalone, mi hanno detto guarda c'è questo gruppo intelligente e capace, guarda attentamente. Li ho guardati un po' in rete, mi sono piaciuti, mi è piaciuto il linguaggio, mi è piaciuto il linguaggio di Luca Vecchi che è regista, mi piaceva come metteva la macchina, come inquadrava, al di là delle battute, però naturalmente facevano delle pillole e quindi quando l'ho incontrato ho detto ma ragazzi ma su un lungometraggio, erano un po' preoccupati, io vorrei fare un film con voi, però bisognava cominciare a costruirlo piano piano e hanno accettato questa scommessa e piano piano poi è diventato una sceneggiatura, tutto questo ha preso forma. Una generazione lo sbando, quindi raccontare proprio un film generazionale, racconti i trentenni di oggi senza un obiettivo dove lo Stato non ha creato obiettivi per queste persone, per questa celebrazione e quindi loro con serietà, con leggerezza e con capacità hanno raccontato questa loro vita che è dentro questo film. Noi volevamo fare un film, abbiamo lavorato molto per fare un film, abbiamo lavorato molto sulla struttura, sulla sceneggiatura, raccontare una storia, ho spiegato ai ragazzi che per andare al cinema devono avere una storia, una storia che va da là alla z, poi possono essere degli errori, però intanto raccontiamo una storia e loro con sincerità hanno raccontato la loro storia, abbiamo lavorato insieme per 4-5 mesi sulla sceneggiatura, nel senso che loro scrivevano, poi mandavano, poi ci vediamo a cena, ci raccontavamo alcune cose, dei percorsi, dei personaggi e poi hanno fatto i loro film in grandissima libertà, hanno fatto otto settimane di lavorazione, hanno portato molto materiale e poi è stata la capacità insieme a loro di mettere insieme e di raccontare un film. In questo ci siamo riusciti, ci sono riusciti, sono stati molto bravi, io sono molto contento, sono contento perché insieme a Camilla che cerchiamo sempre storie nuove e nuovi debutti, credo che loro abbiano la possibilità e la capacità di fare altri film e quindi è forse nato qualcosa di nuovo. C'è anche questo approccio che viene dal metodo dei creatori americani, di creare delle franchise, delle properties, Salone oggi è una, tra virgolette ovviamente, una property, cioè un nome, un establishment, questo per creare valore, per creare valore da portare al cinema, questo è il metodo televisivo che le porta al cinema italiano? Beh, io devo creare valore aggiunto al cinema italiano, io credo che il cinema italiano non deve sedersi mai, dobbiamo sempre cercare cose nuove, persone nuove, artisti nuove, storie nuove da raccontare al pubblico, il pubblico ti chiede sempre che cosa di più, quindi da una parte ho raccontato Salone che farà 70 milioni, che racconta poi un universo, Salone, è straordinario, al quarto film, Salone è in carne, racconta il posto fisso, qui raccontiamo invece una situazione che è sempre meno che lavorare, che sono due facce della stessa medaglia, perché io sono cresciuto col cinema degli anni 70, sono cresciuto col cinema politico degli anni 70, sono cresciuto col cinema di Rosi, il cinema di Bellocchio, di Bertolucci, di Antonioni e anche però la grande commedia di Municelli, la grande scrittura di Agia Scarpelli, la grande commedia italiana, è stata per noi molto importante, oggi noi siamo figli di quella storia, e trovare la possibilità di… e poi nel tempo ho capito che quando volevo ritornare al cinema dopo tanti anni di televisione, noi siamo andati al cinema raccontando il cinema civile con Dan Bosoli, quando poi sono tornati alla… ho cercato un nuovo artista che mi raccontasse la realtà graffiandola da comico, perché riguardando i film, i grandi film che sono dal sorpasso, noi siamo lontanissimi da questa storia qui, però guardando sempre loro, è importante sapere dove viene, che sono stati grandissimi maestri per noi, è con l'idea poi di trovare qualcuno che comunque trova spazio per raccontare qualcosa, ma con quel tipo di DNA. Questa è la grande forza. E quindi praticamente raccontare sempre o mai delle storie fine a se stesse, ma delle storie diciamo ridendo di storie per tra virgolette socialmente utili, che è un paradosso. Quindi sorridere col pensiero. Questa è la grande forza che ci spinge a… e poi sai, quando incontri persone devi sentire se c'è qualità dentro la persona. Io sono fondamentalmente sempre attratto da persone più intelligenti di me, più colte di me, più preparate di me, mi piacciono. Oppure aiutare qualcuno che ha quel seme, che ha quella intelligenza, quella forza, ma la deve esprimere. E allora noi, noi cerchiamo di mettere a disposizione la nostra esperienza per aiutare a fare questo. Il futuro? Come si può aspettare? Il futuro lo vedo… lo vedo meglio per il cinema italiano. Lo vedo molto meglio. Lo vedo meglio perché si stanno muovendo anche… il ministro Franceschini sta muovendo sul leggere il cinema italiano. Qualcosa si è mosso col film di Zalone. Questi soldi che sono arrivati al cinema a pioggia, molto importante, che fanno bene a tutto il cinema. nel mondo ci guardano come questo grande mostro del cinema italiano, questo grande artista che ha riuscito a portare 60-70 milioni al cinema italiano. I francesi ci guardano, gli spagnoli vogliono distribuire i film, gli americani vogliono fare un remake. Quindi, insomma, c'è grande attenzione al cinema italiano. E quindi anche il governo ha grande attenzione al cinema italiano. E quindi tutto quello che possiamo portare… ci manca forse una cosa per fare bene il cinema. ci manca il sistema, fare il sistema. Noi non facciamo il sistema. Siamo troppi ancorati ognuno nella propria Tau 2, nella propria società. Non dico le altre. Quelli sono società molto importanti, abbiamo da bellissimi produttori in Italia, produttori molto capaci, artisti molto capaci, sceneggiatori molto capaci. Bisogna però avere anche un po' di coraggio e un po' di follia per fare del buon cinema. Andare a cercare queste piccole pietruzze che possono essere delle pepite d'oro, come spero sia questa nostra pepita i The Peelz. Grazie a tutti.